Era il 21 maggio, il video del 21 maggio, nel titolo c'era nuova fase del bear market riferito ai nostri mercati e poi Cina pronta al rally? Punto interrogativo, era una domanda che scaturiva da dei primi segnali, primissimi segnali di reversal che venivano appunto dagli indici, alcuni indici cinesi, in particolare noi seguiamo il Cina A50, quello che rappresenta l'andamento delle 50 principali azioni classe A, oggi più nel 54, si vede poco perché è un oggetto qui sulla volatility stop line, mettiamo un attimo il grafico in linea per far vedere meglio come ci stiamo avvicinando al break di un doppio minimo, ricordo che il doppio minimo si considera attivato quando viene rotto il massimo intermedio, quindi qua stiamo parlando di area 13,5, oggi ci avviamo a chiudere 13,5 e 60 e quindi potrebbe esserci un break al rialzo, ce lo dice anche il DMI, il DMI positivo oggi ha incrociato il DMI negativo, è un incrocio che più o meno non vedevamo dal mese di dicembre, ecco l'ultima volta era qui agli inizi del mese di dicembre, in quell'occasione un rally correttivo che è andato a visitare la media 200, ricordo che il mercato cinese è in un bear market da più di un anno, quindi questa che vediamo qui nel grafico daily è semplicemente la parte finale, quindi test della media 200 l'ultima volta è avvenuto nel mese di dicembre 2021, ci può stare che un eventuale movimento a rialzo, soprattutto proiettando verso l'alto eventualmente, ora vediamo un esempio che si potrebbe fare proiettando verso l'alto questa figura di inversione, e ci sta che si potrebbe andare a vedere le resistenze in area 14,5 dove sta per arrivare anche la media 200, tra l'altro ecco uno dei sistemi, uno dei modi per poter calcolare un obiettivo, supponendo che questo sia il movimento che sto adesso rappresentando con i tre pallini blu, quindi un 1,2, quindi una possibile onda 3 a rialzo, potrebbe avere appunto un obiettivo minimo in area 14.000 e poi proiettando verso l'alto nel doppio minimo, quindi la proiezione del doppio minimo si fa proiettando verso l'alto l'altezza, quindi la distanza tra il doppio minimo e il massimo intermedio, quindi questo 2 che vedete, la proiezione verso l'alto del doppio minimo, è in area 14,3, ecco poi qui ci sono diverse resistenze grafiche, quindi qui ecco sono i vecchi minimi di periodo in area 14,5, quindi non è difficile pensare che l'ipotesi minima di un possibile movimento a rialzo 14.000 e invece considerando la proiezione del doppio minimo e l'obiettivo grafico di andare a rivisitare i vecchi supporti a 14,5 di unità di resistenza, quindi conclusione, un possibile target potrebbe essere in quest'area che ho circolato di rosso. Questo per quello che riguarda il China 50, però tutto questo ovviamente deve essere confermato dalla rottura di questa figura di inversione e quindi da seguire nei prossimi giorni. L'altro tema che avevamo sviluppato in particolare nel video di ieri era relativo al petrolio, petrolio che aveva dato un setup sulla DX giorni fa, il setup è partito verso l'alto, ieri ci chiedevamo se il petrolio stesse andando verso i nuovi massimi, però nel video vi avevo presentato tutta una serie di dubbi che erano evidenti già da un po' di giorni, da un punto di vista tecnico, non sto a ripetere cose dette durante questa fase di trading range che si è aperta con il massimo a torre del mese di marzo. E comunque anche qui, conclusione, oggi siamo andati a toccare la fascia di resistenza che avevamo tracciato qui in area 120, siamo toccata e siamo tornati indietro. Molto spesso questo accade nelle fasi in cui ci sono delle voci, quindi il mercato sale sulle voci e poi sulla notizia, mi riferisco al cosiddetto embargo, alla rovescia, l'embargo da parte europea sul petrolio russo, quindi il taglio agli acquisti di petrolio russo che dovrebbe diventare operativo tra circa otto mesi e quindi su questa notizia c'è stata oggi una fiammata verso l'alto, siamo andati sui future a fare nuovi massimi, questo CFD non ce lo fa vedere, questo certificato, comunque sui future, soprattutto sulle scadenze brevi, i future in questo momento sul petrolio, come dicevo ieri, stanno trattando in quella che si chiama in gergo tecnico backwardation, cioè il valore dei future più ravvicinati, le scadenze più ravvicinati sono più alti rispetto alle scadenze più lontane. Questo è un indice di stress sul breve termine, e quindi la carenza di fornitura nel breve termine, o comunque un eccesso di domanda e di speculazione nel breve termine. Quindi oggi si tocca sulla notizia area 120 e si conclude con una shooting star quasi engulfing, guardate l'ombra nella parte bassa a un certo punto della giornata, era stata inglobata del tutto anche la candeletta precedente, volumi in aumento, quindi la classica shooting che potrebbe segnare la conclusione di questo movimento verso l'alto, che io inquadrerei più nell'ambito di un trading range, come ho detto nei giorni scorsi, più che come la possibile partenza di un'altra gamba del bull market. Lo vedremo questo, in ogni caso questa shooting di oggi va tenuta presente, perché adesso qui è stato posto un livello molto importante da superare, appunto per poter confermare la possibilità che possa prolungarsi questa gamba rialzo ed evolvere in una nuova fase del bull market. Per il momento non vedo questi segnali, come dicevo, nonostante i due DMI, questo va detto, si stanno allargando, quindi comunque anche qua da confermare questo, prendiamolo sempre come un indicatore che ha delle fasi di decollo, diciamo, che poi deve essere confermato, deve prendere il volo lentamente, come con i prezzi che reggono al di sopra delle resistenze che hanno superato, dimostrano di fare delle, sì, delle correzioni, ma senza violare i supporti e quindi dare modo al trend di prendere direzionalità. Questo è il modo in cui, diciamo, va letto il DMI e l'ADX in questi casi. Ecco, quindi questo è il petrolio, quindi è stato l'altro elemento importante di oggi. Oggi avevamo iniziato la giornata con un più 2, più 3%, stiamo finendo con meno 1% e il resto, ieri facevamo appunto cenno all'andamento dei metalli industriali, proprio era uno degli elementi che faceva nascere dei dubbi su questo movimento al rialzo del petrolio e oggi è stato confermato rame meno 1,3, un bearish engulfing che fa doppio top con questo hanging man del 23 di maggio fatto proprio sull'area di resistenza. Stessa cosa l'argento, meno 1,90, argento, dicevamo, test di 22 rivisitato dal basso, failure, questo è nettamente un failure, shooting fatta proprio qua su 22, e volatility stop line è oggi, è ripreso il test dei vari supporti più in basso, comunque non è un segnale positivo. Un amico chiedeva dell'oro, l'oro è alle prese con la media 200, l'avamo visto qualche giorno fa, ve lo ricorderete, eravamo qui a dire appunto che c'era il solito imbuto tra volatility stop line che scende, media 200, quindi nel breve è da osservare l'uscita da questo cuneo, e comunque il persistere, il battere sulla media 200 non è un segnale tecnico positivo, perché non è riuscito, qui mi riferisco in particolare a queste due candele del 25 e del 26 di maggio, c'è stato un doppio test, però guardate la ripartenza debolissima, due doggi a forma di shooting, corpo molto piccolo, nessuna possibilità di estendersi verso l'alto, mancanza di domanda, e siamo ritornati giù sulla media 200, ora da punto di vista tecnico questa configurazione è meno debole, e cioè sì, è meno debole rispetto a quella dell'argento, che invece la media 200 l'ha bucata nettamente, nettamente, comunque non è una configurazione positiva, ricordo sempre, come avevo detto l'altra volta, che qui il segnale tecnico importante è stata la violazione di questo minimo arrotondato che prometteva di portare loro verso i nuovi massimi, e invece il failure di questa candela, diciamo, ha dato il via a questo movimento ribassista e all'attuale test della media 200. Un amico chiedeva se i dati sull'inflazione che in questi giorni vengono pubblicati e confermano numeri molto elevati possa fare da propellente per i prezzi dell'oro. Diciamo che questa fase per l'oro si è conclusa, si è conclusa perché c'è da fare due considerazioni. Intanto, l'inflazione da tenere presente a questi fini non è il CPI, cioè non è l'inflazione quella, chiamiamola breve termine, ma bisogna tener conto di quelle che sono le aspettative di inflazione, è un altro indicatore che va confrontato con il livello dei tassi di interesse dello stesso periodo. Traduco, se noi guardiamo parlo degli Stati Uniti in questo momento il rendimento del decennale americano siamo sul 2,8%. 2,8% abbiamo aspettative di inflazione a 10 anni o meglio, sopra i 5 anni, circa il 3%. Questo significa che in questo momento i tassi reali sono intorno a zero ed è stata proprio la risalita del rendimento del decennale in buona parte anche a indebolire l'oro proprio per il motivo che le aspettative di inflazione sono state compensate dall'aumento dei rendimenti. Ora, non voglio fare discorsi troppo complessi, restiamo all'analisi tecnica, l'analisi tecnica comunque è chiara, quindi per rispondere all'amico l'inflazione che stiamo vedendo nel breve del 7-8% i mercati in questo momento con gli altri indicatori di aspettative di cui parlavo prima i mercati pensano che non saranno confermati, quindi l'inflazione scenderà verso livelli più bassi e quindi anche l'oro in questo momento non funge, non svolge questa funzione di compensazione dal punto di vista di protezione del valore reale. Non so se sono stato chiaro, se ci fossero dubbi scrivetemi nei commenti che vediamo meglio di chiarire questo concetto. Un'altra richiesta riguarda il dollaro, oggi più 0,4, il dollaro comunque diciamo sembra aver per il momento interrotto il movimento rialzista che era iniziato, guardate questa fascia di inversione, qui risaliamo al mese di novembre, dicembre, quindi il break al rialzo e poi una fase parabolica corrispondente soprattutto nell'ultimo periodo col rialzo appunto dei tassi, l'accelerazione data dalla Federal Reserve al rialzo dei tassi a breve e alla cessazione del programma di cui è adesso un pullback importante, abbiamo rotto la volatilità di stop line che tra l'altro oggi ha cambiato colore quindi qui secondo me per il momento andiamo verso una fase di consolidamento, una fase di consolidamento tra l'altro nei prossimi due settimane ci sono gli incontri delle banche centrali, le riunioni delle banche centrali molto importanti, la settimana prossima c'è la BCE e la settimana successiva la Federal Reserve quindi secondo me per le prossime due settimane per il dollaro lo scenario più probabile è quello di un trading range come sta delineando questo pullback più profondo e il più profondo degli ultimi mesi quindi questo è anche un segnale grafico che non va sottovalutato. Veniamo alle borse, borse stanno per chiudere, mancano un po' più di 20 minuti alla chiusura in America un po' in ordine sparso con performance deboli S&P 500 meno 0,16 Dow Jones meno 0,2 la conformazione grafica è quella di Arami cioè dopo l'espansione a rialzo tre candele gialle di espansione consecutive reazione tecnica dopo la compressione delle due settimane precedenti ci siamo fermati su volatility stop line e sui vecchi supporti che ora fanno da resistenza parlo di area 4.150 per l'S&P 500 questo è un possibile a rami cioè quando alla candela gialla verticale si affianca una candela dal corpo più piccolo giallo o nera è indifferente è una configurazione di frenata di breve quindi qui c'è da attendersi un consolidamento e altri segnali simili vengono dal Russell che oggi meno 1,24 però come vedete sì, qui sembra che sia una correzione più profonda in realtà la configurazione è uguale guardate queste tre candele gialle come un movimento unico questo è avvenuto quasi senza soluzione di continuità per cui prendiamolo ecco prendiamolo come un movimento unico è la configurazione di arami di cui vi parlavo quindi con una candeletta inside che segnala possibile frenata anche perché siamo in corrispondenza anche qui dei vecchi supporti la configurazione grafica per tutti gli indici americani è simile siamo andati a rivisitare i vecchi supporti violati all'inizio del mese di maggio e quindi qui adesso nei prossimi giorni si gioca la prossima partita tecnica il Dax meno 1,29 ieri avevamo parlato di questo possibile ABC con target media 200 però già ieri c'era venuto qualche dubbio nel senso che aveva disegnato questa candeletta questo Doji proprio in corrispondenza del massimo precedente oggi siamo puntualmente tornati indietro però qui siamo sopra la volatility stop line vediamo se nei prossimi giorni i prezzi riusciranno a reggere sopra la volatility stop line in modo da fargli cambiare colore quindi oggi sono scattate prese di beneficio dopo un movimento di rimbalzo durato quasi due settimane e quindi era normale avere un pullback meno 1,29 questo movimento di ABC per il momento rimane plausibile e quindi continuate a seguire perché nei prossimi giorni avremo molte altre informazioni anche in concomitanza dell'uscita dei dati e soprattutto dei dati di venerdì dove ci sono i dati della disoccupazione americana molto molto attesi lasciate come sempre nei commenti la segnalazione di eventuali situazioni interessanti così poi come abbiamo fatto oggi con il dollaro e con l'oro le condividiamo assieme nei prossimi commenti grazie a tutti per i like che lasciate su tutti e due i canali sia su TradingView che su YouTube e grazie come sempre per l'attenzione appuntamento a domani e grazie a tutti per i like e grazie a tutti per i like